Siamo con Massimiliano Fratini, capitale del Maracanà, è andata male? Sì, è andata male, purtroppo il gironio di ritorno non abbiamo il portiere e abbiamo dovuto per forza adattarci alle esigenze interne della squadra. In un'andata ero soddisfatto la squadra, abbiamo sempre combattuto e ero scontro per il terzo e ultimo posto, questo purtroppo speravamo una vittoria ma anche oggi eravamo risicati come numero. Vi è mancato forse il piglio giusto per segnare in alcuni momenti decisivi? Infatti oltre al portiere si è infortunato anche il nostro attaccante di punta, la punta di diamante della squadra, Longarini, comunque ci siamo divertiti. L'obiettivo è finire il campionato, per il prossimo anno? Il prossimo anno sicuramente troveremo un buon portiere e rinforzeremo la squadra. Ok, ti ringrazio.